non è la prima volta c'è successo l'altro giorno ragazzi un'altra espulsione tantissimi minuti di partita giocati in inferiorità numerica e arriva un'altra sconfitta sto giro è una sconfitta doppiamente pesante perché arriva in un derby contro la lazio e perché comunque te sta a giocare un posto in champions league dai tre punti a loro aumenti a loro le probabilità no le qualificazioni appunto in champions league per la prossima stagione e tu ovviamente questa sconfitta sei chiamato ulteriormente a rincorrere solo qui per dare i voti a tutti gli interpreti a tutti i calciatori di questa partita che ovviamente mi ha fatto smadonnare non poco vi saluto immediatamente cioè bella a tutti da me allora invito a lasciare una maria di mi piace per supportare i pagelloni ma per supportare in generale anche i contenuti di questo canale vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella anche su questo canale youtube per restare sempre aggiornati sui miei video due canali youtube di calcio e un canale youtube extra calcio vi lascio i canali in infobox come sempre compariranno qui durante il video senza perdermi troppo in chiacchiere comincio dalla lazio e poi passo ai calciatori della roma sarò probabilmente un po più rapido sui calciatori della lazio primo perché non ho tanto da dire vista anche la partita e poi perché mi voglio concentrare più sui miei singoli sui singoli della mia squadra del cuore perché lì ovviamente ho più da da parlare e da criticare a provvedel do la sufficienza sufficienza perché poi se ripenso alle occasioni che ha creato la roma a me mi viene in mente solo l'autogol dei casale e che poi è stato annullato ovviamente per fuori gioco che c'era per il resto ragazzi non mi viene in mente nient'altro quindi voto sei per provvedel marusic e isai ecco mettiamola così ho deciso di dare una una sufficienza agli esterni della lazio hanno svolto diciamo il loro compito senza strafare senza far prestazioni sopra le righe però alla fine l'efficacia quello che conta è il risultato finale a casale ho deciso di dare sei e mezzo ovviamente se fosse fatto autocolla noi avrei dato sei e mezzo però ragazzi è un difensore secondo me veramente veramente bravo non lo scopriamo oggi è un calciatore che ho sempre stimato che ho sempre apprezzato un calciatore particolarmente giovane che secondo me può fare veramente bene ve lo dico in in totale onestà è un calciatore secondo me per il futuro anche della nazionale italiana molto molto importante a romagnoli to sei discorso simile a marusic e isai me che ha fatto chissà tutta sta prestazione e alla fine comunque si portano a casa la vittoria a centrocampo ecco facciamo così subito me lo tolgo immediatamente discorso simile anche per cataldi gli do una sufficienza non ho visto tutto sto partitone da parte dei cataldi discorso diverso invece per milinkovic savic e luisa alberto ragazzi milinkovic savic propizia l'espulsione dei bagnez se non sbaglio dopo aver recuperato addirittura anche un un pallone e non è solo questo che mi ha fatto pensare per il 6 e mezzo ovviamente la qualità e la classe di milinkovic savic che che fa la differenza al centrocampo della lazio ma anche lo stesso luisa alberto secondo me è un calciatore importantissimo per bianco per bianco celesti ha fatto una o due conclusioni da fuori se non ricordo male che hanno impegnato lui patricio è comunque uno degli ultimi ad arrendersi mettiamola così vado avanti a petro ho deciso di dare 6 e mezzo 6 e mezzo perché lotta ragazzi in una maniera di quelle assurde è la qualità e l'esperienza anche nel suo caso che fanno che fanno la differenza se c'è una cosa che ho visto ovviamente poi complice anche l'espulsione dei bagnez a livello offensivo la lazio sicuramente ha creato ci ha messo in difficoltà proprio perché c'ha dei calciatori che tecnicamente sobravi a giocare tra le linee petro 6 e mezzo felipe anderson ragazzi addirittura ho deciso di dargli un mezzo voto in più 7 comunque è stato sempre secondo me nel vivo del gioco nel vivo delle delle azioni del bianco celesti fa tanto movimento che non dà punti di riferimento e che comunque ha messo un po in difficoltà quella che è stata la nostra retroguardia di stasera voto 7 e a zaccagni invece ho deciso di dare sistema un po di più perché ho paura che il microfono mi tocca e poi magari sentite rumore a zaccagni dò 7 e mezzo perché fa il gol che decide ovviamente il derby ingenuità all'errore da parte di di zaleschi che non è riuscito a tenerlo praticamente e zaccagni non se lo fa ripetere due volte ragazzi butta la pallarete che vale il gol della vittoria della lazio e a salito 7 e mezzo perché chi vince c'ha sempre ragione sicuramente la partita l'ha preparata bene è inutile parlare coi seccoli ma ma mi sarebbe piaciuto giocarla in parità numerica per tutti e 90 i minuti sarei stato curioso di vedere che partita sarebbe potuta no uscire fuori poi magari avremmo persa uguale ma questo nessuno lo può lo può sapere allora lui patricio io ho deciso forse in maniera clamorosa però deciso di dargli 6 e mezzo perché un paio di interventi importanti li ha fatti sul gol secondo me non c'ha tutte queste responsabilità anzi non c'ha proprio responsabilità il problema è alla base che non dobbiamo far arrivare zaccagni in quel modo davanti a lui patricio però non ha fatto una cattiva prestazione allora a mancini io la sufficienza mi sento di dargliela perché comunque al netto di tutto quanto non ho visto errori gravi e clamorosi da parte dei mancini seppure abbiamo sofferto no il giro palla e i movimenti degli attaccanti della della lazio a smalling ho deciso di dare 6 e mezzo ragazzi miei gol non fuori gioco non sarebbe stato il suo ovviamente però ecco a livello contenitivo a livello di presenza e quel difensore che te dà la sicurezza e non me la dà ovviamente da da ieri dalla partita contro la lazio in realtà è da tutta la stagione da quando è arrivato che smalling ha avuto solo un periodo no ma per il resto poi smalling è sempre stato troppo importante per noi vuto 6 e mezzo i bagni e sellago della bilancia ragazzi i bagni e sellago della bilancia io gli do 0 0 manco 1 2 3 4 non classificato 0 ditelo come vi pare gli do 0 perché comunque indirizza la partita è inutile potete dire no perché è colpa di murigno il non gioco tutto quello che volete fatemi giocare la partita in 11 contro 11 per 90 minuti anziché dal 32esimo dal 31esimo in 10 contro 11 e poi ne riparliamo perché a momenti gol non fuori gioco ma a momenti la buttiamo dentro in quell'unica occasione che ci abbiamo avuto staremmo parlando di tutt'altro è ovvio inferiorità numerica che vuoi fa io sapevo che sarebbe andata a finire così invece sarei giocato proprio e palle e infatti ce ne avrei quattro ne fossi giocato ce ne avrei quattro anziché due perché sapevo che avremmo perso non classificato 0 fate voi zaleschi male ragazzi zaleschi 4 e mezzo dal punto di vista difensivo vabbè è l'occasione del gol ma non solo tante volte ragazzi si è perso più di un calciatore sulla fascia e so cose che possono succedere c'è posta anche se pensiamo che lui tecnicamente non sarebbe uno che fa quel ruolo diciamo che nato calcisticamente per fare altro poi murigno l'ha trasformato in un esterno a tutta fascia però ecco queste sono le occasioni poi in cui escono fuori quelle che sono le lacune di un calciatore che ci avrebbe altre caratteristiche ma ma avanti cristante è da 5 non onestamente faccio lo stesso identico discorso ecco facciamo così per cristante wijnaldum matic spinazzola pellegrini e anche dibala cioè per tutti questi calciatori io ho visto poco o nulla ragazzi nel primo tempo addirittura leggevo un dato statistico l'ho detto anche nel post partita dibala pellegrini e wijnaldum sono stati i calciatori della roma quelli più offensivi del primo tempo che hanno toccato meno palloni in assoluto qualcosa vorrà pur dire no si ok dal trentesimo trentunesimo in inferiorità numerica ma quei primi 30 minuti veramente poca poca roba wijnaldum fa uno squillo iniziale e poi basta poi sparisce completamente dal campo e a un certo punto manco mi ricordavo che stava a giocare con noi su bentramatic ma ragazzi poca roba di solito è uno che incide è uno che fa la differenza dal punto di vista tecnico dal punto di vista della presenza dal punto di vista dell'interdizione dal punto di vista della costruzione non ho visto assolutamente nulla lo ripeto però complice l'espulsione dei bagnez che poi le porta a dove fa tutt'altro tipo di gioco e a cercare a deparare le folate offensive della lazio che c'ha un uomo in più e che comunque c'ha la qualità per far giro palla spinazzola 5 ragazzi è stato arginato perfettamente non riuscivamo a giocare dal lato suo proprio perché è stato sempre ingabbiato e là bravo sari a prepararla tatticamente ovviamente in quel modo da pellegrini ragazzi io quest'anno veramente sarà che il capitano sarà che mi aspetto sempre che sia lui a lo ripeto tutte le volte a caricarsi la squadra sulle spalle a fare la differenza ma dice lo stato di forma una volta capoccia sfonnata una volta una cosa una volta un'altra ma le prestazioni di pellegrini mancano e poi le conseguenze ragazzi è tutto in divenire di bala è da 5 perché aveva fatto in realtà fino a che non è stato sostituito nel secondo tempo veramente poco però non lo avrei mai tirato fuori proprio perché è quello che te può tira fuori scusate il gioco dei parole il coniglio dal cilindro in qualsiasi momento sono scelte che ha fatto l'allenatore iorente gli subentra per me poi che poi esce a sua volta una situazione molto particolare comunque la sufficienza gliela do a un certo punto ha fatto una chiusura che secondo me vale tutta la prestazione del del mondo degli orente quindi 6 velotti abram li metto sempre sullo stesso piano 5 e mezzo velotti si ha fatto salì un po di più la squadra si è preso qualche fallo importante ma era troppo isolato ragazzi ogni volta che ripartiva se in caponiva abbassava la capoccia l'ha fatto pure zareschi in un paio d'occasioni se buttava nella mischia e poi che vuoi fa ecco diciamo che sicuramente le prestazioni dei velotti e di abram non sono giudicabili anche per l'inferiorità numerica comunque 5 e mezzo per entrambi murigno fo di 5 e mezzo gli do 5 e mezzo più che altro non gli voglio da un'insufficienza grave perché lo ripeto sta sconfitta è figlia anche del fatto che hai giocato con un uomo in meno per tutto il secondo tempo una buona parte del primo quindi è inutile coi secco ma lo so però non mi sento dettagli in insufficienza grave perché sono convinto che avremmo potuto fare una partita sicuramente più all'altezza una partita sicuramente più alla pari della lazio ecco mettiamola così e basta non aggiungo altro vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao raga ciao ciao